Oh, peppa, appappancù, cioè, ah, comunque ho risolto il puzzle, l'ho risolto, l'ho risolto, diciamo, davanti a me, a teatro, perché la gente mi deve scrivere Dio Bono, Dio Bono, perché, perché, se ti ho dato gli appunti, beh, non mi devi più cagare la minchia, non mi devi più calcolare nemmeno in cartolina. Marinai, tocca a te ora. Ora? Ora? Oh, non è in giù da perdonare di inali, è in giù da due reali, è in giù da due reali, è in giù da due reali, è così via. Basta, trichetto, lamentati che c'è troppa sabbia sulla spiaggia e mi mangerò il tuo grasso a colazione. Pergo, caro potere, hai fatto una promessa. Non avevo scelta, non si può sempre fare ciò che vorremmo, credevo lo sapessi ora. Ah, mi ha fregato. Sì, dai, gli ho struncato già un paio di volte. Ma cosa diavolo? Ah, ok, devo stunnarli. Non ci provare. Figlia di puttana. Ma ti apro. Come ho detto. Non so da quanto ho registrato il precedente episodio, porco schifa. Perché ho tappato il video per fare il puzzle e quell'idio... Uno stolto mi ha scritto perché ho venduto gli appunti, mi chiede adesso che capito deve studiare del libro. Ma se non hai ancora seguito il corso, cosa cazzo vuoi studiare ancora? Mannaggia te. Ci sono tombe con sopra il volto di quel coso. Però sono praticamente morto, quindi probabilmente ci schiatterò malamente. a meno che non trovi un sacco, un sacco, un sacco di cose. No, vabbè, vabbè, almeno sto trovando risorse. Ah, ok. Ah, ok, i denti di là, infatti, e di qua si segue, si prosegue. Vabbè, a sto punto faccio due video, due episodi che devo fare. Quindi, bentornate tutti, porci, bentornate sul canale, sono Bighead e sono qua. Oggi è The Hulling per proseguire Alice in Badness. Oh, porca schifo. Non ci provare. E BAM! Mancato. Bene, fuori. Aia, mannaggia te. Combatti da... Da uomo schifoso. Mi spacco la testa. Amico, amico. Alice, aiutami a onorare il mio impegno. Ho bisogno dei miei uomini. Mi saranno stili, ma solo perché la loro anima è imprigionata. Devi liberarmi. Allora mi ricordavo che c'è una roba del genere. Loro non sanno ciò che vogliono. Ciò che è vero per i vivi è spesso vero anche per i morti. povero. Perché qua tutti parlano per gli enigmi? santa pace. Anche. 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 Si pronuncia una cosa parecchio orecchio lunga. o forse no. 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 Stroncato? Yes! E uno Aspetta! Torna qui! Devo salvarti! Più o almeno? Credo non ne abbia bisogno. Un cavalluccio? Un cavalluccio? Un cavalluccio? Grazie per avermi liberato, non ci speravo. Cioè mi ha stroncato la vita. Non è che mi sta fregando anche questo qua. Ricopriamo vita. È veramente difficile, non pensavo fosse così complicato non essere colpito dai mob di questo gioco. Cioè io sinceramente pensavo fosse più semplice. Avanti, via al prossimo. Comunque mi rimanca ancora una distanza per la vita. E' certo, ovvio. Qui proprio no, eh? Ovvio, assolutamente no. E beh, mi sembra giusto, eh? Bella. Due al prezzo di uno, buono. Dove è andato a finire, ma il fantasma. No! Eh, vabbè, ma... No! Eh, vabbè, ma... Anche se mi davi un po' più di vita non mi faceva poi così schifo, eh? Sono una preghiera esaldita. Sono una preghiera esaldita. Sono una preghiera esaldita. Spero vivamente di non subire danni nuovamente quando mi avvicino a qualcosa. in questo modo. Che stronzo! Che stronzo! Ah, se vado al buio! Se tu vuoi dirmi che io devo stare alla luce di sto coso? Ma non so manco dov'è. Ma non so manco dov'è. Grazie per avervi ritorno alla nave. Parte della nave, parte della ciurma. Nuvoletta! Esistere, parola di tutti i vecchi di questo po' più. Ho paura di chiedermi cos'è qui dentro. Ho paura di chiedermi cosa ci sarà qui dentro. Ho paura di chiedermi cosa ci sarà qui dentro. Non vedo altri nemici afforché lui. Vabbè, ci sono solo questi? Vabbè allora... Basta che non spawnino all'infinito. Dai Ciccio, fatti vedere e iniziamo. Sotto. No. 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 effettivamente posso fare anche così per questo è bello, complimenti alle spalle, schifoso l'Aido andiamo cavalluccio ho visto una cosa che preferivo che avrei dovuto non vedere no no no, no, cazzo grazie cavalluccio, da che prima non andavi a due loro, poi vai, corri altrimenti vai io spero che qualcosa non mi venga a prendere perché se no non mi venga a prendere perché se no non mi venga a prendere davanti ci sei? eh, figurati è bello che avrò quasi anche finito il tempo, va bene tutta valluccio tratta solo quando vuole lui ma anche le pedane non collaborano per niente eh ma assolutamente no, ma mamma io ma questa cosa che serve ma mi si piglia bene il culo? allora forci non so voi ma io non vedo la pedana, dove è finita la pedana che era lì potremmo andare? ma queste pedane che vanno quando cazzo vogliono loro ma mi si piglia per il culo ma 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 po 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 ma Oh, porco cane! Quanto poteva essere lunga sta cosa! Oh, porco Giuda! Ma ci guarda! Grazie, dice. Sei buona con te stessa come lo sei stata con noi.